Ma perché proprio la luna? Perché scegliere questo obiettivo? Potremmo anche chiederci, perché scalare le montagne più alte? Perché trasvolare l'Atlantico? Scegliamo di andare sulla luna e di fare le altre cose non perché sono facili ma perché sono difficili a te che non è cazzo No! Houston c'è un qualche malfunzionamento Houston mi ricevi? No non mi sento! Houston mi ricevi! Grazie a tutti.